«Basta! Silenzio! La giornata è finita! Possibile che non sappiate mai quando è il momento di smetterla?» La mamma gli stava sgridando dalla soglia e loro la fissavano a mutoliti. Si voltò con stizza e se ne andò dalla stanza, lasciandoli mortificati. Era mezzanotte e un minuto, però è alla vigilia di Natale, forse, si poteva ridere un pochino. Pietro accarozzò la testa bionda di Maddalena, distesa al suo fianco nel lettino estraibile. «Adesso però dormiamo, Mad!» La bambina chiuse gli occhi, ma dopo qualche secondo suo fratello le bisbigliò. «Anche perché tra un po' arriva il tuo amico che non esiste!» Certo che Babbo Natale esisteva, ma Maddalena non aveva voglia di spiegarglielo di nuovo. Si addormentò di botto, come un interruttore che viene spento. Niente aveva il potere di renderla esasto come sua mamma quando la sgridava. Il cervello di Pietro, invece, continuava a macinare pensieri. Al telefono il papà gli aveva detto che non era ancora sicuro di venire, ma che forse gli avrebbe regalato l'I-Control F-Shock modello Gold. Le voleva d'oro? Quali arcobaleno non gli piacevano? Ripensò la giornata. A quando si erano svegliati gli alcenoni a casa della nonna? Ripensò la bisnonna e sentiva che stava scivolando nel sonno, così accogliendo pensieri sempre più sconnessi, mischiando e scomponendo pezzi di parole. Lo sentiva che sprofondava. Quando all'improvviso spalancò gli occhi nel buio. Qualcosa lo aveva svegliato? Si mise in ascolto. In camera dalla mamma qualcuno si muoveva. Che cosa stava facendo? Era un ladro? Poteva essere Babbo Natale, forse. Forse Madda aveva ragione. Babbo Natale esiste ed era arrivato a casa loro. Immaginarlo piaceva anche a lui. Si alzò, attento a non far rumore. Raggiunse il corridoio appena rischiarato dalla luce che filtrava sotto la porta della mamma e accostò l'orecchio. Altri passi e bisbili. Forse la mamma stava tirando fuori i regali, ma con chi parlava non era sola. Era con Babbo Natale? Nella sua testa si formò l'immagine di un ladro con la mascherina nera, come quella dei fumetti, ma era un pensiero infantile e lo scacciò via. avanzò di un altro passo, trattenne il fiato e con i polpastrelli aprì uno spiraglio attraverso cointravide uno spicchio della camera. Sua madre camminava per la stanza urlando nel telefono su surripini di rabbia. Come fai a non capire che questa cosa cambia tutto? Come fai a non capire che cosa significherà per i bambini? Era furiosa. Dalla rabbia le tremava la voce. E quando avreste intenzione di dirglielo, scusa, quando saranno grandi? Pietro non sapeva che fare. La tensione gli aveva scavato un vuoto nel centro dello stomaco. Avrebbe voluto scomparire, ma ormai era lì, anche se la mamma non si era ancora accorta di lui. Fece un altro passo e la mamma lo vide. Selevò il telefono tra pollici e indice. Ha messo giù. A Pietro venne da sbadigliare. Che cosa succede, mamma? Chi era? Gli era uscita una voce impaurita e se ne vergognò. Avrebbe voluto abbracciarla, ma rimase immobile. Sapeva cosa era giusto fare, ma sapeva anche che se si fosse fatto avanti non avrebbe mai più potuto tirarsi indietro. Sarebbe diventato adulto per sempre e gli altri lo avrebbero preteso da lui. La mamma lo fissò in attesa. Poi piegò la testa di lato, succhiudendo appena gli occhi. Nessuno, amore. Vai a letto adesso, ti prego. Pietro obbidì. Giunti in camera sua, staccò il telefono dal caricatore. Era troppo tardi per telefonare al papà, così decise di mandargli un sms per dir di buonanotte e chiedegli ancora se sarebbe arrivato. Poi, come sempre, infilò il telefonino nella tasca del pigiama per essere più veloce a rispondere e non svegliare nessuno. Mad dormiva come un sasso. Pietro la scavalcò ed entrò nel letto. Le lenzuola erano già diventate gelate. La mamma non si stava occupando dei regali. Se non ci fossero stati, il giorno dopo Maddalena ci sarebbe rimasta malissimo. Spero con tutto il cuore che su Babbo Natale avesse ragione.